Salve a tutti, in questo video andremo a risolvere un esercizio utilizzando la teoria degli insiemi ed in particolare i diagrammi di Euler-Rowen che molto spesso vengono visti così in maniera troppo semplicistica e vengono snobbati perché in fin dei conti non sono altro che dei cerchi che si sovrappongono tra loro e quindi molto spesso vengono visti come una sorta di complicazione per risolvere poi problemi banali in realtà vedremo che quando i problemi da risolvere contengono numerosi dati i diagrammi di Euler-Rowen aiutano molto bene ad avere una visione chiara di come questi dati sono organizzati e a risolvere quindi in maniera molto elegante e compatta certi tipi di problemi come quello che stiamo andando a risolvere in questo video dunque in questo esercizio in particolare ci viene detto che abbiamo un certo numero n incognito di sportivi che sono stati intervistati e hanno riferito in particolare le seguenti affermazioni ci sono 10 sportivi che hanno dichiarato di aver praticato soltanto tennis poi ci sono 60 sportivi che invece hanno dichiarato di aver praticato sia tennis sia calcio quindi sono 60 sportivi che hanno praticato sia tennis che calcio poi ci viene detto che ci viene detto che abbiamo 70 sportivi che hanno praticato sia tennis sia calcio sia atletica questi sportivi che abbiamo detto sono 20 sportivi che hanno praticato sia calcio sia atletica poi ci viene detto che 20 sportivi dichiarano di aver praticato sia calcio sia atletica questa dicitura vuol dire calcio sia atletica e non tennis così come questa tennis più calcio vuol dire che questi sportivi hanno praticato tennis e calcio e non atletica o altri sport ancora dopodiché abbiamo ancora un'altra informazione in particolare gli sportivi che dichiarano di aver praticato soltanto atletica sono 30 gli sportivi che invece dichiarano di aver praticato sia atletica sia tennis e quindi non calcio sono 25 e infine 20 sportivi non hanno praticato nulla perché come dice l'esercizio sono infortunati l'esercizio quindi oltre a fornirci questa lunga lista di numeri ci chiede anzitutto di determinare il numero totale di sportivi inclusi anche quindi gli infortunati e poi ci chiede ancora di determinare qual è lo sport più praticato ovviamente tra quelli elencati in questo esercizio quindi tra tennis calcio e atletica allora come vedete in questo caso la quantità di numeri presenti nel problema è abbastanza elevata abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 numeri e ne dobbiamo determinare un altro ancora più fornire una risposta che evidentemente è legata ad un insieme di numeri che dobbiamo andare a determinare in particolare qui cosa dovremmo determinare dovremmo determinare il numero di sportivi che ha praticato tennis il numero di sportivi che ha praticato calcio il numero di sportivi che ha praticato atletica e vedere quale di questi sotto insiemi è più numeroso quindi dovremmo determinare altri tre numeri vediamo quindi che questa abbondanza di numeri può portarci in confusione e quindi è bene avere in questi casi una sorta di schema mentale una sorta di approccio schematico al problema che come anticipato può essere basato sui diagrammi di Euler-Rowen quindi la prima cosa da fare è capire quali sono i sotto insiemi da disegnare e quindi da rappresentare utilizzando appunto la rappresentazione di Euler-Rowen beh sicuramente dobbiamo rappresentare l'insieme universo quindi lo chiamiamo U come universo oppure S ad indicare tutti gli sportivi dopodiché abbiamo la categoria del tennis, del calcio, dell'atletica e degli infortunati sicuramente tennis, calcio e atletica si sovrappongono tra di loro quindi li vado a rappresentare in maniera che si intersechino tra di loro quindi T per tennis, C per calcio e A per atletica e poi abbiamo la categoria degli infortunati che evidentemente non è in sovrapposizione con queste altre tre categorie quindi dovrei disegnare un altro diagramma di Euler-Rowen qui ad indicare gli infortunati oppure banalmente posso dire che se qui ci sono tutti i miei sportivi che praticano sport beh in quest'altra regione ci sono i nostri infortunati che sono 20 quindi abbiamo già inserito il nostro primo numero a questo punto cominciamo ad utilizzare tutte le informazioni presenti nel problema e cerchiamo quindi di riempire tutti gli spazi vuoti tutte le intersezioni in particolare generate da questi insiemi allora ci viene detto che chi pratica solo tennis è rappresentato da 10 sportivi quindi il sotto insieme solo tennis è questo questo qui e quindi ci mettiamo un bel 10 qua tennis più calcio è rappresentato da questa intersezione qua quindi qui dentro ci sono 60 ragazzi 60 sportivi da ripartire in queste due intersezioni non sappiamo ancora come ripartirli quindi queste informazioni ancora non le abbiamo utilizzate mentre questa ci mettiamo una crocetta l'abbiamo già utilizzata quest'altra informazione chi pratica solo calcio è facilmente rintracciabile all'interno di questo nostro diagramma l'andiamo ad inserire qui in questo sotto insieme che appunto è l'insieme di tutti i calciatori privati da quelli che praticano tennis e atletica poi ci viene detto quindi ci mettiamo una crocetta perché anche questa informazione l'abbiamo inserita che chi pratica sia tennis, sia calcio, sia atletica coloro che praticano tennis, calcio e atletica sono in 20 quindi questa è un'intersezione tra questo insieme l'insieme del calcio e l'insieme dell'atletica quindi questo numeretto 20 va a finire qui dentro vedete questa è l'intersezione di calcio, tennis e atletica anche in questo caso ci mettiamo una crocetta ad indicare che questo dato è stato inserito adesso vediamo un po' coloro che praticano calcio e atletica sono in 20 l'intersezione calcio e atletica è data da questo sotto insieme e quindi qui dentro ci devono essere 20 ragazzi poiché 20 già appartengono a questo sotto insieme è evidente che qui in quest'altra regione in quest'altro sotto insieme ce ne saranno 0 ragazzi poiché il totale di tutti i ragazzi che compongono questa intersezione deve essere 20 secondo questo dato del problema tra l'altro una volta inserito questo numero 20 ci rendiamo conto che anche questo dato poteva essere inserito perché qui ci viene detto che coloro che praticano tennis e calcio sono in 60 quindi l'intersezione tennis e calcio è data da questo sotto insieme qui dobbiamo quindi avere un totale di 60 sportivi e poiché 20 sono già inseriti in questa regione gli altri 40 li andiamo a mettere in quest'altra regione crocetta anche qui coloro che praticano solo atletica sono in 30 e chi pratica solo atletica va inserito diciamo in questa regione quindi ci andiamo a mettere il nostro 30 ed infine coloro che praticano atletica e tennis sono in 25 l'intersezione di chi pratica atletica e tennis è data da quest'altra regione qui poiché 20 sportivi sono stati inseriti in questo sotto insieme gli altri 5 per arrivare a 25 li inseriamo in quest'altro sotto insieme ebbene quindi come possiamo vedere abbiamo già inserito tutti i numeri a disposizione quello degli infortunati ci mettiamo una crocetta lo avevamo inserito all'inizio dell'esercizio quindi come possiamo vedere abbiamo fornito il numero di componenti quindi per ciascun sotto insieme di questo diagramma di questa rappresentazione secondo i diagrammi di Olero-Ven e a questo punto possiamo calcolare il numero di sportivi che compongono il nostro insieme universo cioè il totale degli sportivi sufficiente fare la somma di tutti questi componenti quindi 10 più 40 più 5 più 20 più 70 più 0 ci mettiamo anche lo 0 più 30 e più 20 10 più 40 fa 50 più 5 55 più 20 fa 75 più 70 fa 145 più 30 fa 175 e più 20 fa 195 quindi questo numero risponde alla nostra prima domanda sono 195 gli sportivi intervistati adesso vediamo qual è lo sport più praticato e quindi dobbiamo individuare quanti sportivi hanno praticato tennis quanti hanno praticato calcio e quanti hanno praticato atletica chi ha praticato tennis si trova all'interno di questo insieme sotto insieme quindi sono 10 più 40 più 5 più 20 si fa 50 55 più 20 75 i calciatori si trovano all'interno di questo sotto insieme quindi abbiamo 40 più 20 più 70 più 0 e fa 60 più 70 130 e gli atleti si trovano in questo sotto insieme dato da 5 più 20 più 30 più 0 componenti e fa 25 più 30 55 quindi la classifica degli sport è al primo posto abbiamo il calcio con 130 sportivi che lo hanno praticato al secondo posto abbiamo il tennis con 75 sportivi che lo hanno praticato al terzo posto abbiamo gli atleti con 55 sportivi che lo hanno praticato e al quarto posto abbiamo i nostri infortunati conventi sportivi che non hanno praticato alcuno sport l'esercizio è stato risolto correttamente però diciamo un'osservazione da fare è che la notazione che abbiamo utilizzato per rappresentare i nostri insiemi o le informazioni che ci ha fornito l'esercizio il testo dell'esercizio non è una notazione particolarmente precisa diciamo che nella teoria dell'insieme esistono tutta una serie di simboli l'operatore differenza, l'operatore intersezione, l'operazione unione che andrebbero utilizzati per rendere più precisi questo tipo di informazioni che abbiamo trascritto qui e quindi volendo seguire questa strada vediamo dove saremo arrivati anzitutto la nostra rappresentazione diciamo anziché chiamare questo come l'insieme degli sportivi potevamo chiamarlo insieme universo dopodiché abbiamo visto che abbiamo disegnato tre sotto insiemi li abbiamo indicati con T, C e A e questo sotto insieme I T, C e A e I per chi sta leggendo la nostra soluzione possono avere un significato non propriamente immediato quindi avremmo dovuto scrivere una piccola tabellina come questa che sto riportando qui dove indicavamo che T sta per tennis C sta per calcio A sta per atletica e I sta per infortunati dopodiché abbiamo visto qui che ad esempio a un certo punto abbiamo detto tennis più calcio uguale a 60 chi è tennis più calcio? tennis più calcio è tutto questo insieme questo insieme qui tutto insieme qua questo sotto insieme anziché chiamarlo tennis più calcio tecnicamente si chiama intersezione dal momento che è un'intersezione del sotto insieme tennis col sotto insieme calcio quest'altro sotto insieme ancora più piccolo è invece l'intersezione di tre sotto insiemi calcio tennis scusate calcio e atletica quest'altro sotto insieme qui quest'altra regione invece è la regione dei calciatori ai quali togliamo coloro che praticano tennis e atletica quindi l'unione di tennis e atletica questo è il simbolo unione non c'è scritto quindi tua qui ma c'è scritto t unione a d'accordo? quindi utilizzando questa notazione matematica vediamo in che modo queste stesse informazioni avremmo potute scrivere in una maniera non solo più precisa ma anche più compatta solo tennis diventa i tennisti meno i calciatori unione atleti tennis più calcio diventa t intersezione c solo calcio diventa tutti i calciatori meno l'unione dei tennisti con gli atleti tennis più calcio più atletica diviene tennis intersezione calcio intersezione atletica calcio più atletica diviene calcio intersezione atletica solo atletica diventa atletica meno i calciatori unione i tennisti atletica più tennis diventa atletica intersezione tennis quindi come vedete con questa notazione compatta e precisa avremmo quindi espresso in maniera più rigorosa le stesse informazioni che l'esercizio ci ha indicato bene con questo si conclude questo video e vi rimando alla prossima lezione a presto